Salve, sono Paolo Lagaetano, questa è la nostra pizza cenere e carciofi. Adesso vi facciamo vedere come la prepariamo. Questa è una pizza tipica a Cerrana. Noi abbiamo riprodotto una crema di carciofo che adesso andiamo ad agiare su questo disco di pizza. Prima è stata fritta e poi è stata ripassata in un tunnel per asciugarla e adesso lo riprendiamo in un forno elettrico che diventa bella croccante. Mettiamo fior di latte di latteria sorrentina, mettiamo una fettina per ogni spicchio. Questi sono i carciofi che noi cuciniamo a bassa temperatura, a 50 minuti, a 90 gradi. Adagiamo su fior di latte. Adesso andiamo nel forno e poi dopo la ultimiamo. La pizza appena uscita dal forno andiamo con un po' di pepe macinato fresco. Dell'olio all'aglio con il prezzemolo, quindi abbiamo fatto un battuto di prezzemolo con l'olio all'aglio. Cos'è questa? Questa è la cenere dei carboni, riprodotta la cenere dei carciofi arrostiti. È stupenda! Un po' di germoglietti per colorare. Ecco la nostra cenere dei carciofi, pizzeria da Paolino Gaetano.